Paola Minaccioni, ben ritrovata, ti troviamo anche in Arte Nino. Qual è il tuo personaggio? Io sono la proprietaria della pensione in cui Nino Maffredi alloggiò per un certo periodo. In realtà non sono da sola, siamo due sorelle, siamo particolari perché sono due donne che gestiscono una piccola attività che per il tempo era sicuramente una cosa desueta. Sono due personaggi naturalmente di commedia, quindi un po' in piccione, un po' che vivono la vita degli altri, molto interessate alla vita di Nino Maffredi e un po' anche innamorate di lui. Tu invece sei o sei stata molto interessata ai film di Nino Maffredi, li hai visti e chi è Maffredi per te? Maffredi è il cinema, è la commedia, è la storia del cinema davvero. È stato uno dei più grandi attori italiani, ha saputo spaziare con una leggerezza e un'eleganza da un genere all'altro, sempre andando fino in fondo in tutto quello che ha fatto. Ma la cosa che mi colpisce di più è come lui abbia saputo raggiungere queste vette di perfezione, ed è sempre con la leggerezza. Questa è una qualità che cerchiamo tutti di trovare. I prossimi impegni di Paola Minaccioni. I prossimi impegni sono innanzitutto un bellissimo progetto teatrale scritto da Luca De Bey, è un testo tragicomico, un monologo, si intitola La spiaggia ed è un'esperienza fantastica, sto facendo le prove, è un testo bellissimo, non vedo l'ora andare in scena, al Teatro della Cometa dal 25 ottobre, per tre settimane. Poi sarò nel film di Carlo Verdone, quello che uscirà l'11 gennaio, poi andrò in giro con il mio One Woman Show dal titolo Dal vivo sono molto meglio, perché io dal vivo sono molto meglio, che è stato un successo incredibile all'Ambra Iovinelli, quindi lo porto in giro per l'Italia. E poi c'è la radio, il ruggito del coniglio, sono sempre così giocando con i miei due amici, Marco Presto e Antonello Dose. Ci dici qualcosa in più sullo spettacolo della Cometa? È un testo incredibile, è una specie di montagna che io sto scavalcando, è la storia di una donna raccontata dalla tenera età alla età matura, è la storia di un rapporto col papà, tutto questo fatto con un incredibile impatto emotivo e comico, e quindi sono felice di rimettermi in discussioni con un progetto così diverso dal mio solito.